Strada delle Rogge, interessata all'altezza della Chiesa di Santa Maria da una frana verificatasi ad inizio dicembre 2022, resterà ancora chiusa al transito, sia veicolare che bedonale. Lo ha comunicato in maniera ufficiale il Comune di Poncaravese attraverso una nota pubblicata nella mattinata di mercoledì 25 gennaio 2023, a firma del Sindaco Bruno Riva. Purtroppo gli approfondimenti compiuti di recente da un professionista incaricato ha disegnato un quadro tutt'altro che positivo. Infatti, da quanto si evince dalla relazione geologica che l'amministrazione ha ricevuto qualche giorno prima, a zona nord della frana sono stati rinvenuti una serie di massi di grandi dimensioni, come alcuni moretti a secco, che rappresentano un possibile futuro pericolo. Ecco allora la necessità di un intervento risolutivo attraverso una polizia della zona, una valutazione delle condizioni di stabilità ed un intervento cosiddetto di chiodatura e di legatura con funi di acciaio, che a quel punto permetteranno la risoluzione della problematica. Tutto ciò, quindi, comporta la necessità di tenere ancora chiusa la strada, che dal centro del paese porta alla volta del Prato Fiera e dell'allacciamento alla provinciale 460 in direzione Sparone. Un'interdizione al traffico che aveva scatenato non pochi malumori, in particolar modo tra i commercianti, ma che la maggioranza consigliare ha reputato, e reputato tuttora, necessaria in modo da evitare che qualcuno possa farsi male. Al momento, ipotizzare una tempistica precisa legata alla riapertura di quel tratto viario pare impossibile.